Io, diciamo che mi trovo nell'ambito, faccio geometra, preposto e lavoro con un'azienda fuori io, questo già da qua non è a norma questo cantiere, te lo dico perché io sto nel cantiere, lo so come funziona, il ponteggio non sta montato, ma non so com'è, la dinamica non la so com'è accaduta, perciò sta qualcosa che non mi torna. Ma lei aveva chiesto a suo fratello di venire a lavorare con lei, di non venire qua? Sì, ci ho detto tante volte di venire a lavorare con me, perché io lavoro con un'azienda fuori di Roma, una buona azienda, però il problema, la prima cosa è in regola, cioè a parte questa è in regola, però noi lavoriamo prima cosa con la sicurezza, la prima cosa, il cantiere è questo, è questo, senza ponteggio, non si poteva armare le travi, senza ponteggio. Una disgrazia che si poteva evitare. Come? Questo si deve evitare, però il problema è quello che ha usato le spalle in terra, scusatemi del napoletano, il problema è quello che ha usato le spalle in terra, perché ora la burocrazia cammino e cammino, ma il problema è che mio fratello non c'è più, basta, è morto. Perché non?